Per il programma stavolta E niente, ogni tanto succede Vabbè, ce ne facciamo una ragione Comunque L'ho ripresa subito stavolta Vediamo se è tutto normale Sì, perfetto Benissimo Allora, arriva signora Kechi Ah, quindi è proprio una star questa qua Student detective Goro Akechi Ah, ecco Ma pubblicità gratuita, ragazze Oh, grande Ma Ma Dunque il colo di Ryuji è un po' innaturale E noi cosa premiamo? Ecco Cosa è un po' innanzi Questa è un po' innanzi Nooo Eh, lo sapevo Rappresentano la giustizia C'è un po' innanzi Questa è 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 un po' innanzi Ma cosa vuole ancora Questa è un po' innanzi Questa è un po' innanzi Questa è un po' innanzi Mi piacerebbe molto Grazie E' un po' innanzi 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 Poi bisogna andare cauti qua Perché altrimenti ci scoprono Esatto L'ho preso in simpatia Potrebbe anche esserci qualche legame Il problema è che È rischioso molto E' un po' innanzi La giustizia Novo tea Novo tea Novo tea E' un po' innanzi Esatto Evidentemente si Che uscita noiosa Non abbiamo neanche trovato Versalli dei di nota E' un po' innanzi Tutti Perché lo dice adesso Intendo dire Giusto fare quello che facciamo alla gente Solo perché sono criminali Non è un po' d'egoisti Siamo ladri fantasman Dubito che qualcuno Perdonerebbe Quel che abbiamo fatto a Madarame Sono comunque convinto Che fosse necessario E anche con Camo Shida Con i metodi tradizionali Non l'avremmo neppure toccato Questo è vero Ma cosa ne pensi Franca Siamo degli egoisti Stiamo aiutando la gente Non credo di poter avere Un'idea diversa Credo che il nostro sentiero Sia quello della giustizia Non della legge Dovrebbe bastare no? E con la regola Della decisione unanime Non ci smarriremo Si hai ragione Scusa per averne parlato E non ti preoccupare Non sto pensando Di lasciare il ladro il fantasma Aspetta e vedrai Akechi Un giorno ti renderai conto Di chi aveva ragione Ok non parliamone più per ora Quell'investigatore Akechi Sembra avere una notevole Influenza sui media Ah ma sarà lui adesso No Amishima Dio sono furioso Hai sentito cosa ha detto Akechi Vero Bella? Come osa definire Il ladro il fantasma Di criminali Come amministratore Del Phantom Affissionato website Non possono replicare Mostrerò ad Akechi Come la pensa davvero Il popolo della rete Domattina cambierò La domanda del sondaggio La giustizia Della parte dei altri fantasma Continuate a fare il vostro lavoro Boh? Allora Io volevo vedere un attimo Che vantaggi mi da Il legame con Akechi Quindi confidenti Poi c'è qualche confidente Con cui non ho più parlato Quello qua Akechi Gemelle medico di fortuna No lei si E' Maruchi Ok Quindi Goro Akechi Va bene Istinto di caccia Buono E' utilissimo ragazzi Un'affinità del nemico Inizio della battaglia E' fine Però Non so Fra quanto potrà aumentare Il suo legame Con me Ho sbagliato Dunque Tanto sto guardando C'è il sole Quindi non conviene studiare Andiamo un attimo in bagno Se riesco magari a rendarci Decidiamo un po' Cosa aumentare Allora Conoscenza no Allora O fascino O coraggio O gentilezza Non so Oppure l'alternativa E' vedere se c'è qualcuno Con cui uscire Ma non c'è nessuno Quindi niente Salviamo E direi di guardare una serie Non so neanche più Che serie c'è Ah c'era quella là Una tizia La tizia brutta Sì Betty la grezza Vai La finiamo anche Aumenta il fascino Questa Sembra che l'ex di questa donna Stia riscoprendo Il motivo per il quale Si è rinnamorato di lei Vedi per gli esseri umani L'aspetto non è tutto Cosa ti dicevo Abbiamo guardato Betty la grezza Fino all'ultima puntata Forse guardando questa serie tv Ho imparato qualcosa su fascino Si è attento che non aumenta adesso È troppo presto Estituiamo subito il dvd Stavo accennando tardi Andiamo a dormire Ok Andiamo Hai visto la trasmissione Quindi gli altri fantasma erano i cattivi Ora che mi ci fai pensare Ho sempre avuto questa sensazione È come un lavaggio del cervello Una cosa egoista Si sono fatti tutti influenzare ragazzi È tipico Ho aumentato lo shell però Ovviamente sono in piedi Hai visto quello studente detective in televisione ieri? Parli di quel talk show Una roba terribile Come si fa a pensare che ci siano degli esseri soprannaturali Che rubano i cuori delle persone Quel ragazzino è un bugiardo È impossibile che esistano questi ladri fantasma Purtroppo i miei figli pensano che sia tutto vero E la cosa peggiore è che adorano quel detective I bambini sono troppo influenzabili per vedere cose del genere Alla tv Pare che la gente ancora non creda nella nostra esistenza Male Vediamo un po' se ci va bene oggi a scuola Ancora non ci credo Ieri siamo apparsi in tv con Akechikun Un sogno è diventato realtà Incredibile che uno studente possa lavorare come investigatore Come principe detective È intelligente e anche bello È quasi troppo perfetto Eravamo in prima fila Praticamente sporgendomi potevo toccare Akechikun Che emozione Quell'uniforme li stava benissimo Non sembrava affatto snob E come sa parlare bene in pubblico Ho saputo che dopo essere rimasto orfano Ha cresciuto in povertà Ciò lo rende ancora più affascinante Vuole catturare i ladri fantasma Prima di finire le superiore Per lui non è affatto un gioco Io ho saputo che suo padre È capo di un grande conglomerato finanziario Sai che ti dico? Mi piace che detesti media Mi fa pensare che non lo faccia per la notorietà Pare sia così bravo Da essersi fatto dei nemici nella polizia E pare che l'intervista di ieri Sia stata talmente apprezzata Che la li trasmetteranno anche stasera Quindi altra merda addosso Ecco Amico, quel detective di ieri Mi ha fatto proprio incazzare Noi saremo una minaccia? Noi saremo una minaccia Ma? 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 Mi ha? A presto? E' un po' più bello, e potrei fare il risultato. Ma... ...che persone in palestino... ...che non ci sono più grandi? Lei è proprio una stronza, ragazzi. Cioè, quando la vedo, proprio mi sale... ...il crimine. ... ... ... ... ... Non c'è nulla. 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 Che simpatica, ragazze. Se solo potessi... Dopo scuola. Eh, te parla male di noi per forza. Non c'è nulla. Non c'è nulla. Sì. Non c'è nulla. Ma tanto noi dove siamo? Ah, ma lui forse si sta trasferendo, ragazze. Ah, attenzione. A casa di Anne? Non c'è mai chi viene a vivere in soffitta con me, eh? Dove lo sistemi hanno? A casa, in un manga caffè? Dormi qui. A casa di Ryuji? E come? Bene. No, una gita l'ho già fatta. E ho. Colpa del tuo amico. No, una gita l'ho già fatta. E ho. Ehi. Cos'è un futon? Un futon? Il dialetto. Sarà contenta il suo giro, devo dire. Ah, buongiorno! È una cosa vecchia, eh? Non è vero, ma... Un'altra cosa vuol dire. Cos'è il futon? Che cazzo sono loro? Che cazzo sono loro? Adesso... C'è anche una ragazza! No! Franca! C'è stato un grande aiuto! Non c'è una ragazza. Ecco. 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 E' una ragazza. Cosa si chiuderebbe? E' una ragazza. E' una ragazza. Ma... E' una ragazza. E' una ragazza che si chiuderebbe. E' una ragazza. Cosa? Cosa gli ha preparato, quella fanelina? Non lo so. Secondo me è caffè. Sarà caffè italiano? Ho fatto il gesto dell'ombrello Su giro Avete visto ragazzi Buongiorno Buongiorno Qua c'è una conversazione delicata Hai un fidanzato? No mai avuto per giunta Vieni a vedere Franca sarà il suo fidanzato Grazie a tutti Grazie a tutti Oh, ora è venuto Ma questo giro ha mai visto Morgana? Non è buono Ma questo giro Ma questo giro Non c'è nessuno Non c'è nessuno Non c'è nessuno C'è nessuno Oggi Eccolo Ma questo giro Eccolo 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 Cosa Eccolo Oggi ci sono tutti i nostri amici. no ma questo è un po' ma cosa? ma cosa si parla? ma non ho mai beccato ma non ho capito di tutto il nostro patrimonio? ma cosa? ma non ho capito No Non lo so Ha diritto Secondo me va bene Facciamo un party di benvenuto A Yusuke Ma è bello che non ho ancora capito Se Yusuke dormirà con me in mansarda Dimostra la tua giustizia Alla società Preparati per la prossima operazione Fatti prestare una pentola Questa è la missione clou È lì no? Hai visto? Perché dimostra la tua giustizia Alla società Preparati per la prossima operazione Fatti prestare una pentola Eh sì eh Che deve fare il party adesso È più importante il party ragazzi E ben chiedere al suo giro Tanto sappiamo un attimino Ma questa musica non ti fa ricordare Digimon? Non ti fa ricordare il negozietto Quando facevi la missione Ho saputo che stasera Ho previsto un hot pot per cena Vuoi unirti a noi? Non sai che ho sempre da fare Ma voi divertitevi Si chiama Anvero È una brava ragazza Già Mi ha detto che il tuo amico Non ha dove andare E mi ha chiesto di ospitarlo Per un po' Forse pensavo che Saresti stato disagio A chiedermelo tu Visto che sei mio ospite Dove ho messo quel pentolone Provo un po' a cercare in giro Quindi ma posso uscire da qua io? No Non ti bisogna cercare Quindi dov'è la pentola Qui ci sono solo utensili per il caffè Provo a cercare da un'altra parte Permesso Famia Bagno Cucina Qui c'è un grosso tegama di curry Sembra essere la specialità della casa È un mobile per gli utensili La cucina Forse qui dentro c'è una pentola adatta Posso di aver Ma cosa sta facendo? Mette la testa nel freezer Ho trovato un vecchio recipiente di taracotta Dovrebbe essere abbastanza grande L'hai trovato Gli altri entrano a momenti Dal loro giro di shopping Quindi ti lascio in pace Sì si sta attentissimo Ma lei è la figlia? Di Sae? Lino Ma Cotto è la figlia di Sae? E invece questo qua Parla male di noi in televisione Quindi tutti vengono influenzati dal suo Dal suo pensiero Ah sorella Sono sorelle Taracchi È uno con cui ho Adesso ho un legame Sta lavorando con la polizia Quindi devo fare attenzione a quello che gli dico Però potrebbe essere utile sapere Cosa sta facendo la polizia Un È un po' No, ma perché c'è Ryuji che sta parlando in televisione? Io non ho mai avuto la mia mamma. Ma non ho mai avuto la mia mamma. È l'olio, e la mia mamma è veramente buona mamma. Ma non ho mai avuto la mia mamma. Che cosa è Yusuke? Non ti faccio il cuore. Udon e l'oggiore. Non ti faccio in questo momento. Meru! Non ti faccio l'accusa. 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 Non c'era un'accusa. Non c'era un'accusa. Non c'era un'accusa. Non ti faccio la chute. Non per la gente, ma parec noci. Non c'era una persona. Non c'era un'accusa di follow. Non c'era un'accusa. Si, cosa stupiva? Mi? Non c'era un'amici che vediamo alla per la ricetta. Non c'era un'amici che conosci. Noi, non è vero. Non è vero, non è vero. Ok, non è vero. Ti senti a parlare. Quando i nostri amici, i amici sono fissi, sono stato in strumenti di una scuola. Ho fatto bene, non è vero. Ahahah, quando i raggiungi sono riusciti a lui. Hai detto Si, dà bene Non ho parlato di più詳細, non ho parlato di più詳細. Ciao! Buonasera, buonasera. Sì, stavamo guardando qua il passato di Franca. Franca Bella. Franca Bella. Che buono. Certo. Guarda. Franca Bella. Se provare a dire qualcosa di diverso e vedi come te che era giusto. Sei creduto da solo. Ma come? Ma come? Hai capito Lino che ci hanno incastrato E' per quello che abbiamo una brutta reputazione E non siamo arrivati alla conclusione Di questa vicenda Adesso si Ma non mi ricordo Quello lì era Era un tizio a caso Ah era il politico potente Non mi ricordavo bene tutto Quindi quello lì è uno che troveremo Secondo me Era troppo È il boss finale Allora adesso non spoileriamo No a parte che non lo so Niente io lo so Non ricordo È riscosso Ma prima o poi lo troviamo Secondo me ci capita di sicuro Anche perché vogliamo mica lavorare con quel politico là Che vuole parlare in pubblico Io non so se è un politico Penso che sia più uno È un politico È un politico che sta All'altra parte del treno Mi chiede sempre se sono interessata a parlare di politica Sì però non è un politico Non diventa automaticamente un politico Effettivamente La fedina di Frank rimarrà quella che è Ed ultimi merda Ah con la gita ho scoperto un nuovo posto Facciamo finta di dormire Attenzione mi è sembrato quasi che ci conoscessimo da sempre C'è Cioccio Che ci saluta su Discord Mi è sembrato quasi che ci conoscessimo da sempre Quindi c'è qualcosa di comune Abbiamo qualcosa in comune Nel passato Scrivelo tu Cosa devo prendere in mano al telefono e scrivere Non lo so Disadattato Sto leggendo lì E ora ma di Morgana non sappiamo nulla Purtroppo stasera salta Salta Non farmi ridere Non devi farmi ridere Non devi farmi ridere Lasciate fare a me E' già così tardi Tanto è sabato sera ragazzi Dai Buonanotte Buonanotte Morgana Solo lei Buonanotte No fide A tutti A tutti il ribagno pubblico Guarda Insomma tutti ci provano con Ann E' un ottimo elemento E' un ottimo elemento E' un ottimo elemento Sì, non è vero. Stai leggendo lì, no? Adesso ho Yusuke tutto il tempo qua adesso Perché è senza casa, poverino Guarda queste immagini Ecco le foto che ho fatto oggi Non lo so Sì, infatti È pronto Niente male Il vapore le ha appannato gli occhiali Fa parte del fascino dell'hotpot, suppongo Cacchio, questa foto non ha prezzo La faccia che fa Franca mi fa sempre morire dal ridere Che faccia faccia? È un po' come il suverano della situazione Giusto, Yusuke è ancora a casa di Franca, giusto? Cerca di non creare i problemi, ok? Senz'altro voglio ben sperare di non essere così intollerabilmente rozzo, stronzo Tutto ciò che chiede è un futon caldo e una colazione giapponese tradizionale Non è mica poco Cos'è il futon? Ah, forse è una roba giapponese Il futon? Eh? Copertina? Per terra Va bene ragazzi Allora anche stasera abbiamo finito qua Veramente? Eh sì Sì Tra l'altro mi sono anche bloccato un attimo il programma Poi però l'ho fatto partire subito Beh, grazie a tutti loro per averci seguito Grazie anche a chi ci segue indifferita E... Grazie ancora al nostro nuovo follower Buonasera a tutti Allora ragazzi Ciao ciao da Frank e vai dentro Ciao ragazzi Grazie.